E' qui all'inizio di strada nuova, pochi passi dal ponte coperto che si è consumata l'ennesima aggressione, ancora una volta una BB gang che ha preso di mira un giovanissimo ragazzo di 14 anni, domenica pomeriggio il fatto durante la passeggiata con gli amici è scattata ancora una volta la violenza del branco. Prima le provocazioni a parole e poi l'aggressione, calci, pugni e perfino il lancio di alcuni sassi trovati sul selciato. La vittima, un ragazzo di 14 anni iscritto alla prima superiore a Pavia, sarebbe da tempo nel merino di questa BB gang, come riferito dal padre. Il fatto si è verificato intorno alle 5 del pomeriggio di domenica, tra strada nuova ed il ponte coperto, una zona molto frequentata, soprattutto dai giovanissimi. Gli amici del 14enne hanno provato a difenderlo e quindi il branco se n'è andato. Il ragazzo è stato accompagnato dal padre all'ospedale, dove i medici hanno accertato un trauma cranico, con conseguenti 30 giorni di prognosi. L'ennesima brutale aggressione che alcuni giovani a Pavia hanno commentato così. Penso che ultimamente la gente si stia lasciando andare, penso che non ci sia più rispetto, neanche la mentalità, soprattutto tra i ragazzi più giovani. E io comunque faccio parte di una generazione abbastanza vicina, però vedo che comunque non c'è più rispetto e neanche l'empatia o la compassione tra le persone. Da ragazza hai paura di andare in giro? Io sì, io anche nel mio paese abito a Broni, che è vicino qua, e la sera non esco più da sola. Abbiamo paura di andare in giro la sera, quindi... Avete paura del branco? C'è un'escalation di episodi, un po' di violenza? Sì, sì, certo, poi ne abitiamo a Milano, quindi è più frequente. Sicuramente è una cosa brutta, c'è anche a Milano, c'è un po' ovunque, ma bisogna stare molto più attenti, anche con la polizia dovrebbe girare molto di più a parer mio e controllare e evitare queste aggressioni.